La campagna appresso era la campagna del sudarmelo, non c'ho sui serbatoi ora, dopo erano tutte i melanciani. Minchia la pasta che è melanzane. La pasta che è melanzane si rappresenta in questa maniera, a strati. Prima la pasta, poi ci metti il sugo di pomodoro, poi ci metti i melanciani, fritte. Non te fare cobellare dei fimmeli che ti dicono che le melanzane si fanno arrostite che sono buone e uguali. Uguale sta minchia, i melanciani si fanno fritti. L'industrializzazione dei Monti Blade inizia più o meno dopo la seconda guerra mondiale, per penetrare i mercati internazionali, giusto. E qui c'è un canteniamoci in riva al mare le industrie chimiche e petrolchimiche, per creare l'indotto e portare sviluppo anche al sud. Grazie, giusto. E fu così che in tele zone, che prima erano ricche di limoni, aranci, mandarini, albere di carrubba, mandorleti, uliveti, frutta di ogni maniera, vittura di ogni specie, per non parlare di rovine greca quanto ce n'erano, vengono completamente devastate per creare porcheria. A me fighi c'è manco un pezzo di luna. A me fighi c'è manco un pezzo di testa. A me fighi c'è manco un pezzo di panza. A me fighi c'è manco un pezzo di mare. A me fighi c'è manco un pezzo di brazzo. A me fighi c'è manco un pezzo di piede. A me fighi c'è manco un pezzo di terra. A me fighi c'è manca da parte vago. Grazie a tutti.